bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi nelle news parleremo di tutto il futuro di fortnite parleremo di patch vedremo i leaks ma parleremo anche di tanti altri argomenti volevo subito ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del video delle 13 e 30 ma nel video di oggi parleremo anche di altre cose tra cui una argomentazione che ha sollevato tfew e di cui si è parlato per parecchio in questi giorni ritornata diciamo all'occhio del ciclone sui vari forum dedicati a fortnite ma prima di fare tutto questo volevo farvi la domandina lo sapete che ci tengono tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi molto molto interessante ma tu sei favorevole a rimportare i materiali a metà mi spiego meglio vorreste che i materiali al posto che essere 999 si fermassero a 500 come succede in arena io personalmente sì mi ricordo nel periodo in cui fortnite decise di fare una prova e per un paio di mesi giocammo con i materiali a metà devo dire che si giocava meglio niente over builder i fight 1v1 super fast pom 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 pim pum io sono favorevole dimmi invece qual è la tua opinione qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e mando le ciance andiamo subito a vedere un'immagine bella ma molto particolare che sta girando in queste ore sul web è ovviamente un chiaro riferimento al covid 19 riportato su fortnite la cosa che non mi sta piacendo sinceramente di questa immagine e che non mi piace in generale di quello che sto leggendo in giro degli altri stati è che stanno un po troppo ironizzando quindi stanno un po prendendo in giro l'italia per il discorso del covid 19 adesso io non auguro ovviamente a nessuno degli stati e a nessuna persona di poter essere fulcro epicentro di una di una cosa così seria come può essere in questi giorni in questi mesi il covid 19 però mi appello se ci fosse qualcuno che mi ascolta non dall'italia non è bello non è una cosa bella sì fantastico tutti a casa da scuola lo posso capire ma stiamo chiudendo tutto lavoro chiuso l'unica cosa aperta sui supermercati negozi chiusi parchi chiusi non puoi andare in giro per strada scuole chiuse non prendete in giro l'italia per questa cosa non voglio alzare polemiche non voglio assolutamente aizzare nessuno contro nessuno però mi dà un po fastidio comunque ci limitiamo all'immagine a questa piccola fan art che ovviamente ricalca bene la nostra situazione e andando avanti ragazzi invece parliamo di aggiornamenti ci sono sono saltate fuori alcune alcuni progetti che nei prossimi sei mesi verranno messi in atto su forte quindi da oggi a sei mesi la prima è i bundle potranno avere il prezzo aggiustato in tempo reale acquistando uno degli oggetti mi spiego meglio potrebbero mettere fuori un bundle lo si potrà smembrare quindi se esce una skin con un piccone o un deltaplano possiamo scegliere se comprare solo piccone deltaplano invece che aspettare che venga riproposto poi in futuro nello shop verranno aggiunte nuove archivments sono praticamente le legacy quindi le medaglie che otteniamo verranno aggiunti nuovi metodi di pagamento per poter appunto acquistare prodotti su fortnite intenzionalmente per acquistare vbucks ora io non so quale altre opzioni possano esserci metteranno in atto la social overall praticamente miglioreranno la velocità e la stabilità del gioco su molti dispositivi ovviamente si parla anche di console e per terminare gifting anything from the epic game store si potrà regalare qualsiasi cosa a qualsiasi amico dallo store di epic games questo vuol dire che anche i giochi messi in sconto potranno essere regalati lo store di epic games è quello che vediamo nella pre lobby di fortnite e andando avanti abbiamo delle altre cose ability to buy games con carrier billing possibilità di acquistare giochi dal conto bancario non so bene la traduzione corretta si potranno anche attivare le news feed per i giochi quindi i giocatori potranno scegliere di ricevere proprio degli aggiornamenti in tempo reale probabilmente sulla mail da parte di epic games e si potrà anche shopping card for book buying penso che verrà instaurato un carrello for book buying boh per gli acquisti sinceramente book non so bene cosa voglia dire comunque avremo modo di parlarne nel futuro di fortnite volevo invece subito farvi vedere una clip facendo vedere il simpaticissimo tfew che parla di un argomento molto interessante vediamo la clip e poi commentiamo chat imagine that i've said this a thousand times before for literally probably coming on two years okay imagine that i said if you loot a chest the first person to open it gets what's inside the chest nobody else gets the first one down you get the chest before anyone else you get the guns like why is that why was not that non the game day one tfew dice una cosa veramente interessantissima è una cosa di cui ha parlato diverse volte in questi anni praticamente lui dice quando stiamo droppando quando stiamo scendendo dall'autobus considerando purtroppo la mole di stream sniper che sia lui e sia altre persone hanno sarebbe opportuno fare questo io sto scendendo vicino a me c'è un forziere ok se io sono il primo a mettere giù ad atterrare e nello stesso momento comunque in pochi istanti sono io che sto aprendo il forziere il loot del forziere non può andare ad un altro avversario che magari mi ha stream sniperato e quindi è dietro di me e potrebbe picconarmi o con velocità rubarmi il loot è una cosa che io approvo assolutamente una cosa che potrebbe essere fatta lo dice da sempre una bella idea sicuramente sono a favore del fatto di questa cosa infatti la community si sta un pochettino stiamo riattivando sulle ultime sue parole e speriamo venga ascoltato perché sarebbe veramente una cosa geniale e molto molto produttiva per chi purtroppo subisce stream sniping e andando avanti ragazzi invece là in alto abbiamo la certezza che al 99,9% l'update 12.20 verrà rilasciato settimana prossima e non solo abbiamo quella quell'informazione ma abbiamo anche questa informazione che praticamente dovrebbe avvicinarsi con uno scarto dello 0,5% a tutte le nuove release date del patch il 17 il 18 il 19 marzo la patch 12.20 il 31 marzo oppure l'1 o il 2 aprile la patch 12.30 e l'ultima patch 14 15 o 16 aprile quella 12.40 come vedete la patch 12 ha avuto l'update di brutus la 12.10 la tntt na il mio scorso alla 12.20 la skies update a 12.30 e la 12.40 la midas il midas update cosa vuol dire che la patch 12.50 non esisterà si passerà direttamente alla patch 13.00 che sarà la season 13 di fortnite e un ultimo un'ultima informazione ragazzi davvero incredibile parliamo proprio da noi in italia sebbene ne parlino all'estero ho pubblicato qualcosa di simile anche sulla pagina instagram ieri pomeriggio dopo lo stream praticamente cosa è successo il numero di ricerito perché non piango per non piangere è incrementato il 70% di traffico sulle reti internet di telecom fastweb wind vodafone insomma perché la maggior parte di persone sta giocando a fortnite questa cosa è vero che la sto dicendo ridendo ma in realtà è un problema e vi dico perché il general manager di team italia non mi ricordo il nome comunque un tizio italiano ha fatto presente questo aumento di traffico smodato sulla sua linea ad epic games ora la paura è che epic games possa prendere dei provvedimenti come ha fatto in cina e quindi limitare l'utilizzo continuato di fortnite per più ore in sé il discorso è giusto in questo caso siccome non si può uscire non lo so lascio a voi le vostre idee insomma ragazzi anche per oggi il video news è terminato io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao